Probabilmente i più giovani avranno soltanto sentito parlare della saga di Karate Kid, iniziata nel 1984 con la prima pellicola e terminata nel 2010 con la quarta e meno di successo, bisogna dirla. I più grandicelli invece si ricorderanno molto bene le avventure di Daniel Larusso e del mitico maestro Miyagi, interpretati rispettivamente da Ralph Maccio e da Pat Morita. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, Ralph adesso ha 53 anni e ha deciso di spostarsi dietro la macchina da presa, quindi facendo un po' più il regista, tuttavia nel 2012 è tornato a fare l'attore al fianco di Anthony Hopkins in Psycho e nel 2011 ha partecipato al tv show Dancing with the Stars, questo vuol dire che in Italia magari lo abbiamo perso un po' di vista ma in America sanno perfettamente di chi stiamo parlando ed è ancora molto attivo. Per i nostalgici di Karate Kid sappiate che Ralph è molto molto attivo su Twitter, per cui seguitelo perché lui vi aggiornerà con foto e con tutto quello che sta facendo.